La pace va costruita con atteggiamenti di solidarietà e collaborazione nella vita di tutti i giorni. In questo contesto e con queste finalità si inserisce l'iniziativa che ha visto come protagonista le scuole Realdo Colombo, Stradivari e Manzoni, oltre ad una delegazione della media vida. La parcia della pace rientra nella programmazione educativa della scuola Realdo Colombo da ben 20 anni. Quest'anno è stata allargata anche le nuove scuole primarie, Stradivari e Manzoni, che sono qua oggi con noi, che fanno parte dell'ICCRE Monatrè e abbiamo anche una delegazione della scuola media vida perché all'interno della nostra offerta formativa l'educazione alla pace riveste un ruolo importante, non solo per i fatti di cronaca di cui purtroppo siamo tutti testimoni, ma perché riteniamo che educare la pace sia un atto quotidiano. Crediamo che educando ogni singola persona ad un atteggiamento pacifico, poi chissà che il mondo attraverso questi bambini non possa che migliorare nel futuro. Oltre 600 ragazzi a festeggiare insieme la pace che va coltivata, dice la dirigente Laura Rossi, a partire dal proprio quotidiano.